Musica Telespettatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti a consueto appuntamento settimanale con Gorizia 7 la nostra trasmissione che come ormai ben sapete è dedicata a tutte le tematiche che riguardano l'Isontino oggi siamo in compagnia della sedatrice Laura Fasiolo del Partito Democratico che è appunto rappresentante se vogliamo di tutta la regione ovviamente ma in particolare del territorio goriziano buongiorno e ben trovata, inevitabile partire da una brevissima analisi di quello che è stato il voto per le recentissime amministrative dove abbiamo visto il candidato Roberto Collini sconfitto seppure di misura da Rodolfo Ziberna che appunto oggi siede sullo scranno più alto della città di Gorizia qual è la sua valutazione di come sono andate queste elezioni? Allora, ringrazio, buongiorno, certo sarà uno scranno difficile da gestire quello di Rodolfo Ziberna a cui auguro naturalmente un buon lavoro insieme a tutta la sua giunta certamente il centro-sinistra si è dato da fare ma si è dato da fare anche in modo forse improprio con buonissimi programmi per il futuro della città e per il suo sviluppo però anche con una frammentazione in questo senso si è dato troppo da fare con una frammentazione eccessiva rispetto a candidature a sindaco che non hanno trovato il giusto coagulo insomma e la grande opportunità che c'era veramente questa volta era assolutamente un'opportunità da non perdere è stata purtroppo perduta è stata perduta contrariamente a quanto è avvenuto a suo tempo nella storica vittoria di Vittorio Brancati che ce la fece per un pugno proprio di voti, per una manciata di voti perché successe l'esatto contrario cioè la frammentazione dell'area di centro-destra quindi l'unità del centro-sinistra a fronte della frammentazione del centro-destra portò il centro-sinistra ad avere la meglio e a un sindaco dell'area ecco così non è stato per quanto debba dire che c'è stato un grosso impegno del candidato sindaco Roberto Collini il nostro candidato che è supportato da varie forze, da liste civiche che sono state fortemente aggreganti soprattutto del mondo giovanile ha portato a una rinascita come dire di nuove energie ci sono tanti giovani che nel centro-sinistra si sono attivati e si stanno attivando ed è un buon presupposto per il futuro e anche per far crescere questa realtà cittadina ecco l'altra settimana qui a Trieste è stata presentata una lista che si chiama Sinistra per Trieste che raccoglie proprio coloro che in passato facevano parte della coalizione di centro-sinistra che aveva portato all'elezione di Roberto Cosolini a sindaco ma poi nel corso degli anni sia a livello appunto locale ma anche a livello regionale per non parlare di quello nazionale hanno rivolto delle critiche per quanto riguarda i temi portati avanti in particolare dal partito democratico quindi dal governo Renzi in quanto l'accusa è quella si è persa di vista un po' quella che è il binomio che caratterizzava la coalizione cioè centro-sinistra tant'è che qualcuno afferma oggi molti pensano che le tematiche i provvedimenti del centro-sinistra in qualche maniera del centro-sinistra attuale quindi senza più sinistra italiana, senza selle eccetera siano per certi versi addirittura sovrapponibili a certe tematiche del centro-destra ecco nella sua anche visione nazionale della politica secondo lei anche in vista di nuovi appuntamenti elettorali bisogna che nella coalizione si ritrovi anche un certo filone di tematiche, di idee, di proposte quindi che guardano proprio a quella che è la sinistra storica italiana o invece sono loro in qualche maniera che devono evolversi verso una maggior modernità se vogliamo così di determinate tematiche? Sì, molto chiara la sua domanda, molto complessa la risposta che io dovrei dare certamente è stata di entrambe le cose cioè noi dobbiamo superare degli schemi e degli stereotipi che fanno parte molto relativamente ormai del nostro periodo storico però i fondamenti principali del centro-sinistra non può assolutamente eluderli, non li può mancare su questo deve trovare la più ampia convergenza io credo assolutamente sia questo ma soprattutto deve essere credibile nelle proposte del centro-sinistra le proposte devono essere in qualche modo stimolanti la partecipazione del grande elettorato che non c'è più e la gente che se ne sta a casa è su queste persone che bisogna in qualche modo essere proattivi nelle proposte essere coinvolgenti nelle proposte è assolutamente secondo me questo la gente è disamorata della politica e molto ci hanno messo anche i media, mi permetta perché una stampa, la stampa è stata spesso demolitrice delle proposte così positive anche costruttive vediamo sicuramente con Iusoli quel che sta succedendo le fraintendimenti, le interpretazioni malate e sbagliate assolutamente delle proposte di legge questo vale per tutto insomma è più negativizzante anche il media e anche la carta stampata rispetto al raccogliere le idee positive quindi la gente va invogliata alla partecipazione facciamo ciascuno di noi la propria parte secondo me bisogna quindi rileggere anche la composizione della nuovo e cosa significa il nuovo essere proposta sociale, proposta progressista io direi che la parola giusta sia trovare un'area sempre più ampia certamente di progressismo per delle proposte che siano prioritariamente rivolte al sociale ma anche rivolte allo sviluppo non possiamo più vedere soprattutto sentire il concetto di ecco industria eccetera l'industriale è cattivo la classe operaia va in paradiso eccetera questi sono schemi che sono ormai entrati in una stereotipia che sfiora quasi il ridicolo certo ieri a Udile c'è stata un'assemblea un incontro del PD so che lei non ha potuto parteciparci perché è ancora bloccata per i lavori a Roma dove rappresento ovviamente la presidente Serracchiani la quale ha detto che la sfida del centro-destra si giocherà sulle cose sulle buone cose sui fatti che a partire dalle riforme che abbiamo impostato che stiamo attuando leggo direttamente le parole della presidente la sfida per il prossimo anno alle regionali si giocherà sul curriculum che la giunta di centro-sinistra uscente presenterà agli elettori non dice nulla per quanto riguarda la sua eventuale ricandidatura anzi il pensiero di Marco Balico che è appunto il giornalista che ha redatto questo articolo che ha seguito questo incontro di ieri dice che Serracchiani probabilmente nel 2018 non ci sarà anche se ieri non è che ha espresso un sì o un no definitivo ha ancora così preferito mantenere un profilo assolutamente basso su questo tema non scioglie nessun tipo di riserva secondo lei a fronte anche del discorso della frammentazione del centro-sinistra che stava facendo poc'anzi l'appuntamento con le regionali richiederà uno sforzo da tutte le parti dell'unitario per ritrovare un'aggregazione che altrimenti rischia di compromettere anche quell'importante appuntamento certamente perché i regionali non lasceranno una seconda occasione quindi non ci saranno poi tempi di ballottaggi di esitazioni eccetera il centro-sinistra dovrà essere assolutamente unito assolutamente compatto sì a me è spiaciuto molto di non poter essere di non aver partecipato ieri all'incontro però mi sono immediatamente informata su quel che è stato detto e spero veramente spero vivamente Deborah che tu rimanga in questa nostra straordinaria regione a cui hai dato tanto a cui soprattutto puoi dare ancora tanto per completare una progettualità insomma il Porto Franco è quello che comporterà l'azione di D'Agostino è stata un impatto e sarà un impatto avrà un impatto enorme sul paese sull'Alto Adriatico e sul Nord-Est teniamo conto delle potenzialità straordinarie che Trieste avrà insieme a tutto il resto della regione e a quanti finanziamenti sono stati portati grazie a Deborah Seracchiani grazie a questa giunta in regione e quindi direi questo solo fatto dovrebbe essere un fatto vincente soltanto questa è un'azione ed è un elemento di tale forza e di tale impatto da poter garantire un successo ecco anche se certe altre cose altre riforme non sono andate sempre per il verso giusto del resto chi fa e chi fa a volte troppo può anche inciampare e può anche sbagliare questo significa non significa che non si possano porre rimedi non si possano porre correttivi e direi che soprattutto questo discorso del portofranco con la questione della presenza di retroporti di cui un retroporto importante dovrebbe essere anche la via Gorizia Nuova Gorizia e questa questa grande possibilità che viene offerta anche dal nostro territorio siamo una trasmissione che si chiama Gorizia 7 quindi faccio riferimento specificamente al nostro territorio ma dove il retroporto può essere addirittura può essere Pordenone può essere Klagenfurt eccetera perché ormai le visioni devono essere un po' alla virgoletto alla cinese ecco dobbiamo vedere le cose in grande con il microscopio in un particolarismo che non esiste più dobbiamo guardare al mondo dobbiamo guardare una Cina che avanza dobbiamo guardare una Cina che sta comprando e acquistando tutto e dobbiamo aprirci a quei commerci a quella mentalità non possiamo vivere in una mentalità da stra paese nel difendi difendi il particolare non esiste quindi io credo che questa possibilità che Deborah ha aperto e la giunta regionale aperto per la regione Friuli Venezia Giulia sia veramente grandiosa e Deborah ascoltami da spendere per il futuro in effetti proprio il presidente Zeno D'Agostino che lei citava un attimo fa quando c'è stata la firma ormai 15 giorni fa da parte del ministro Graziano Del Rio del decreto che finalmente dopo 60 anni regolamenta e definisce come devono essere gestiti utilizzati i punti franchi del porto di Trieste e ha detto noi avremo bisogno di milioni di metri quadrati perché potenzialmente stanno arrivando interessi non ultimo quello dei cinesi che le citava la via della setta che vogliono appunto fare di Trieste la porta d'accesso a tutta l'Europa quindi evidentemente il ragionamento che faceva lei che servono zone di retroporto veramente estese e non legate anche a un confine nazionale ma anche a altre confine quindi in Slovenia in Austria è sicuramente in linea con questo tipo di potenzialità eh sì certo devo dire che per quanto riguarda la Cina io l'ho detto la volta scorsa sono stata preside a Polo Liceale non soltanto anche a Monfalcone al Liceo di Monfalcone al Polo Liceale di Gorizia dove ho aperto la prima classe Confucius del Friuli Venezia Giulia finanziata dalla Cina finanziata da Pechino da Hanban dal governo cinese che tuttora continua quindi diciamo questo è avvenuto nel 2010-2011 però l'ingresso del cinese già l'ho avviato nel 2006 2005-2006 è stata lungimirante devo dire sì sono stata decisamente lungimirante mi metto questa questa come dire medaglia patacca la chiami come vuole comunque questo è un punto che voglio far presente perché già allora io feci il giro e andai da alcuni alcuni rivendite di vini di alcune aziende per chiedere ma è mai possibile che non riusciate a mettervi insieme a fare filiera in qualche modo per l'esportazione dei vostri vini in Cina eccetera la stessa cosa l'aveva l'avevano chiesta in uno scambio culturale con gli Stati Uniti in Florida gli italiani all'estero della Florida e quindi io feci di queste occasioni opportunità culturali Gorizia uguale cultura no capitale della cultura di queste occasioni culturali anche occasioni di arricchimento di impresa ecco come dire quindi di sviluppo imprenditoriale di arricchimento imprenditoriale del territorio ma non mi ascoltarono senta visto che si parlava di punti franchi veniamo all'ipotesi di zona nuova riedizione in termini completamente magari diversi rispetto a quella che è stata in passato di un'area franca sul territorio goriziano esatto lei lo sa che prima Isabella De Monte in un disegno di legge che io non ero ancora in Parlamento in quanto sono subentrata presentò disegno di legge sulle zone franche confinarie io non sottoscrissi quello lo portai avanti poi mi resi conto che la la dicitura poteva essere il quadro poteva essere in qualche modo inserito nelle zone economica speciale la ZES e fece un disegno di legge a mia prima firma ma sottoscritto anche da altri senatori sulla istituzione di una zona economica speciale sui territori confinari a partire da Gorizia questo discorso è stato accolto devo dire ho faticato parecchio per riuscirci ma è diventato ordine del giorno con approvato nella manovrina adesso ho ripresentato l'emendamento spero venga accolto comunque è stato già accolto un ordine del giorno nel senso che il governo si impegna a portare avanti questa zona economica speciale che significa un rivitalizzo di un'area che è da disegnare da confinaria in cui venga vengono promosse start up e quant'altro proprio per lo sviluppo imprenditoriale economico infatti noi soffriamo a livello soprattutto e soprattutto Gorizia e le realtà ad essa affini lungo il confine dello sbilancio del costo del lavoro ne abbiamo una differenziale del 40% da cui la delocalizzazione di imprese e lo svuotamento del tessuto imprenditoriale dei negozi delle venti insomma le situazioni si è capovolta rispetto a qualche decina di anni fa e con questa zona in qualche maniera ricalcherebbe quello che è lo spirito del GECD del gruppo economico di collaborazione trasfrontaliera o è un'iniziativa che resterà tutta al di qua del confine con la Sdoveglia non sono previste zone economiche speciali dall'Europa non sono previste normative che in cui si possa si allarghi questi finanziamenti europei vanno dall'una e dall'altra parte a me sembra che il GECD abbia tante progettualità da esplorare e da portare avanti e da portare a compimento anche e che questa possa rimanere questo possa rimanere un beneficio delle aree di confine io non parlo solo di Gorizia parlo prioritariamente di Gorizia perché è la nostra realtà che è soccombente rispetto al costo del lavoro quindi è da noi sostanzialmente che si va in sofferenze e sono dell'idea di cooperare naturalmente con i vicini all'interno poi di un progetto che loro potranno anche fare perché anche la Slovenia potrà fare dalla sua parte una sua ZES che si incroci con la nostra ecco poi e perché le norme fino ad ora sono così io ho fatto un progetto legato alle norme esistenti quello che è stato invece proposto da da Ziberna insomma dall'area di Ziberna e la Zese che è un neologismo però non corrisponde a norme praticabili almeno cioè in questo momento è più complesso insomma un cappello un po' tirato in alto che però non si sa dove va a cadere questo ha un bel paracadute e può essere concretamente realizzato in tempi brevi senta tornando a tematiche nazionali in senato avete proprio in queste settimane in esame il provvedimento sullo Ius Soli cosiddetto provvedimento che dovrebbe consentire che va a modificare la legge già esistente che risale però parecchio tempo fa per quanto riguarda le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri polemiche molto forti anche proprio in questi giorni il centro-destra a livello regionale ha fatto anche la conferenza stampa Fratelli d'Italia in particolare attaccando pesantemente quelle che sono le previsioni di questo disegno di legge lei prima mi diceva che in realtà c'è un po' di confusione in materia io penso di sì ma lei mi vuol tirare proprio sul ghiaccio mi dica si confessi con questo caldo il ghiaccio si soglia non c'è pericolo il caldo mi vuol tirare sul ghiaccio ho capito e vabbè dico che si stanno dicendo un sacco di menzogne un sacco di stupidaggini rispetto alla realtà insomma perché non è che ci siano cambiamenti sostanziali si dicono fandonie quando si pensa che che sia quando si associa lo ius soli con la questione dei barconi quindi arrivano qui donne incinte e magari oppure dei richiedenti asilo fanno un figlio e questo figlio diventa italiano non è così cioè non è che nascere in Italia significhi diventare italiano questo è assolutamente una menzogna messa in giro ad arte questo avviene però in paesi che sono che hanno una consuetudine con l'immigrazione cioè con i paesi come l'immigrazione come per dire gli Stati Uniti negli Stati Uniti funziona così nel Canada funziona così e in altri mi pare 30 paesi del mondo altri 30 paesi funziona complessivamente così invece noi abbiamo delle regole stringenti si chiama ius soli temperato perché ci sono dei requisiti fondamentali tra cui quello che uno dei due genitori debba avere uno già un permesso di soggiorno di lungo periodo quindi sia legalmente presente sul territorio nazionale non solo legalmente presente da vari anni ma deve avere anche un reddito che sia almeno un reddito minimo quindi una persona che sta qui che vive qui e che ha intenzione di continuare a vivere qui che lavora e paga le tasse e quindi credo che i figli di questa persona se così dice la legge continueranno e faranno anche un ciclo di studi vedi ius cultura si associa all'us cultura un ciclo di studi con esito positivo possano essere dai genitori ecco i genitori esprimano l'intenzione finché sono minori che acquisiscano la cittadinanza poi hanno la possibilità compiuti 18 anni e entro due anni di accoglierla o meno possono anche revocarla possono anche decidere no io voglio rimanere che ne so senegalese oppure non so ecco di un'altra però non voglio la cittadinanza peraltro questo va anche messo in correlazione con i nipoti dei nostri italiani immigrati all'estero che hanno la cittadinanza godono la doppia cittadinanza lo tengo assolutamente giusto ma che non hanno magari non hanno visto l'Italia non hanno vagamente sentito di che cosa si tratta non hanno forse anche più legami col territorio è giusto che questa venga assolutamente mantenuta valorizzata assolutamente non voglio mettere in concorrenza questi due aspetti però devo dire che sullo Ius Soli si dice di tutto e di più e poi dobbiamo ancora votarla insomma lasciamo anche Sappada parliamo di Sappada volevo arrivare infatti voglio prima chiederle una cosa perché oggi il piccolo nell'edizione appunto Goriziana parla di una sua interrogazione al ministro dell'interno Minniti per quanto riguarda la situazione della questura dell'edificio che ospita la questura di Gorizia chiedendo appunto un intervento urgente perché c'è stato anche sopra luogo da parte del neosindaco Ziberna viene definita addirittura sede infatiscente quella che ospita le forze dell'ordine e beh direi proprio di sì io l'avevo già chiesto avevo già fatto precedentemente con il presidente ministro questa richiesta l'ho fatta adesso con il ministro Minniti e ogni governo Gentiloni l'avevo fatta anche precedentemente appunto sperando che trovino una soluzione perché non è possibile non è dignitoso che una questura viva in una situazione di tale precarietà dove addirittura sì gli uffici hanno dei sostegni perché non cade il soffitto dove non ci sono le condizioni minimali di sicurezza e anzi l'ho fatto proprio presente anche perché sono riuscita a scappare Minniti perché doveva andare a Tallin aveva delle cose certamente di grandissimo rilievo ma quando è venuto un paio di giorni fa in senato a relazionare su quanto avrebbe detto in Europa e quanto è successo recentemente ho approfittato per dire al suo collaboratore guardate qua si incatena anche lo stesso questore lo ha dichiarato e qui dovete porre rimedio io adesso vi metto faccio questa interrogazione dovete rispondermi e starò dietro guardi soffierò al collo perché mi diano una risposta e sanino questa situazione assolutamente si accennava a Sappada sappiamo che i residenti ancora nel 2008 se non ricordo male votarono per il referendum che chiedeva loro se volevano restare con il Veneto o passare la Sulla di Venezia Giulia vinse a stragrande maggioranza il sì sono passati nove anni ma Sappada è ancora provincia di Benuno si è incomprensibile io dico semplicemente incomprensibile ha fatto bene benissimo Seracchiani a battere il pugno anche lei io devo dire che o anche mi sono espressa un po' difformemente dal gruppo insomma ho detto ho votato perché l'ordine del giorno venisse posto immediatamente è stato anticipato l'ordine del giorno ne parleremo credo la prossima settimana adesso sono ancora credo per quanto riguarda il calendario vediamo se ne parliamo dopo i vaccini perché anche questo è un altro bel problema o prima di affrontare l'altro scoglio che è quello dei vaccini abbiamo finito? no se lei vuole dimmi qualcosa anche sui vaccini no no ma lei mi vuole proprio affondare perché il ghiaccio si scioglie e se no parliamo invece di migranti visto che sappiamo ma non possiamo parlare della cultura perché è anche cultura di Gorizia perché insomma i migranti saranno felici anche perché in queste settimane in cui c'era il silenzio elettorale abbiamo ospitato diversi esponenti di grande rilievo di Gorizia dalla fondazione Coroni di Kronberg a Sigizzi ad altre situazioni che hanno che hanno raccontato quella che è il grande fermento culturale che conosce la città di Gorizia ma di Sottino e quindi tutta la regione perché evidentemente sono eventi che non riguardano soltanto la specifica zona in cui avvengono ma hanno un respiro sicuramente regionale e anche trasfrontaliero certamente diciamo che è quello che mi ha fatto molto piacere che ieri abbia Deborah Seracchiani ribadito il concetto che Gorizia sarà la capitale della cultura e vorrei che questo lo sentissero molto bene i miei concittadini questo investimento che la regione ha fatto sulla cultura di Gorizia sugli enti le associazioni eccetera è assolutamente importante solo la funzione di Villa Luise con i finanziamenti regionali con i finanziamenti europei sarà il volano per le start up che porteranno anche cultura sul territorio poi è ovvio la nostra stretta correlazione con la Slovenia Nova Gorizia e con tutti i territori da quello friulano a quello più giuliano e con la vostra realtà siamo siamo veramente un cuore pulsante e culturale anche per il numero di associazioni così importanti io cito anche il teatro le attività teatrali che sono veramente straordinarie poi le leggi che attualmente abbiamo portato avanti abbiamo varato daranno a livello nazionale sullo spettacolo del vivo in genere sullo spettacolo teatro eccetera daranno nuovo impulso a quanto abbiamo saputo fare a quanto tanto del nostro anche ricchissimo mondo anche di volontariato altra cosa che mi piacerebbe parlare in un'altra puntata quella del terzo settore il terzo settore anche lì ci abbiamo messo mano noi abbiamo delle iniziative amplissime e dobbiamo valorizzarle forse abbiamo abbiamo energie che non nascenti ma anche energie così notevoli non sappiamo non sappiamo farle emergere e dare il giusto peso e quindi invochiamo la stampa i media per dare visibilità a quel tanto che c'è in questa straordinaria regione Friuli-Venezia-Giulia ho finito? certo no ancora un minutino la signatrice vuole evidentemente scappare via deve andare al mare non so è bella bella iniziativa provvedimenti tornando anche al discorso iniziale delle iniziative della Giunta Serracchiani il sostegno al reddito abbiamo visto che ha avuto una grande ahimè in termini negativi successo perché vuol dire che c'è tanto bisogno di un aiuto in questo ordine la politica forse cosa può fare? beh la politica può fare tanto anche perché noi abbiamo fatto una legge importantissima a livello nazionale che non è semplicemente come dire il reddito di cittadinanza che significa individuare le situazioni più fragili e dare qualcosa a quelli che non hanno un minimo è fondamentale è buona anche quella proposta la nostra è una è una proposta invece una legge legge sul reddito di inclusione cioè di è una quindi è un sostegno alle situazioni alle famiglie o anche i singoli che siano in disagio sulla base di progetti in modo da favorire dei percorsi lavorativi quindi uscendo da una logica meramente assistenziale ma e facendo invece un salto sul coinvolgimento attivo dei cittadini che si trovano senza lavoro o senza reddito infatti l'assessore dei servizi sociali qui di Trieste lo dice ogni volta che viene il nostro ospite la gente viene a chiedermi lavoro non viene a chiedermi un sussidio viene a chiedermi lavoro e lì spesso ci si scontra con la in realtà dare un sussidio è un po' a volte rischia di umiliare le persone e poi di non risolvere il problema bene siamo giunti al termine di questa nostra puntata di Gorizia 7 ringrazio la senatrice Laura Fasiolo per essere stata con noi anche negli ultimi minuti un po' scalpitante comunque abbiamo finito grazie a voi per averci seguito ci vediamo sabato prossimo sempre alle 12.30 sempre su Telequattro a tutti una buona giornata grazie grazie